Indovinate un po' quest'anno chi ha vinto gli antipasti di Natale? E anche i primi, e forse anche i secondi, e i contorni? Mi sa anche i dolci, ma torniamo agli antipasti. Oggi ve ne faccio tre. Centrotaule di Natale, tonno, maionese, tagliate dei dischi di pane da tramezzino di varie dimensioni. Non buttate gli scarti. Spalmate tutti i dischi e impilateli uno sull'altro. Metteteli su un piatto da portata a Natalizio e spalmateli con altra maionese. Create le fiamme con dei peperoni e infilzateli con uno stuzzicadente. Un segnaposso di Natale. Spennellate con albume, prosciutto, parmigiano, tagliate a striscioline e poi piegatele in questo modo. Creando gli alberelli. Infilzate con uno stocchino da spiedini. Spennellate con uovo e infornate. Un cubetto di formaggio come base. L'albero di Natale, pasta sfoglia, prosciutto, formaggio, arrotola e fallo per due volte. Taglia i pezzi e componi l'albero, olive, spennella in forno. E anche questo è pronto! Chi viene a Natale?